Un bene comune che mi sta molto a cuore è la pace. Non solo perché abbiamo un articolo unici che compie la guerra, ma anche perché la guerra è una voragine che ci mangia le risorse che sarebbero stati molto più utili nella costruzione di quello che abbiamo in mente. E poi anche perché ci vuole anche la solidarietà con i paesi che subiscono i nostri attacchi, che saranno sicuramente maggiori e più frequenti in futuro se non realizziamo questa alternativa che sarà l'unico modo per poter raggiungere la pace. Io mi chiederei di pensare e inserire da subito anche il bene comune e il diritto alla pace. Grazie.